Poche gocce di pioggia in mattinata e la periferia angrese torna nuovamente sott'acqua, a filo di argine e lo sguazzatorio che minaccia nuovamente le vicine abitazioni. Ad oggi sembrano vani gli interventi di rifacimento del mando d'asfalto della strada provinciale 185. Questa mattina, come da immagini, sono saltati anche i tombini e l'acqua ha invaso la sede stradale appena rifatta. Difficoltà di transito in località vagnana e anche all'imbocco del ponte, ancora chiuso e voluto dalla provincia. L'acqua è la maggiore insidia ma la situazione più preoccupante resta sull'argine del ponte Marconi, tra Angri e San Marzano sul Sarno, di cui resta solo un pericoloso vuoto e assenza di argini. Lancia il grido di allarme il consigliere comunale angrese di Progettiamo per Angri, Domenico D'Aurea, sul posto, per sincerarsi, della situazione e che chiama in causa il presidente della regione Campania, De Luca, e la politica locale. Quanto è successo questa mattina nelle periferie tra Angri e San Marzano sul Sarno, in località vagnana, era già scritto, l'abbiamo detto un anno fa, anzi più di un anno fa, io l'ho ripetuto più volte in consiglio comunale, l'abbattimento del ponte Marconi, fortemente voluto in particolare da un consigliere regionale di minoranza, era un'arma di distrazione di massa, perché in realtà ciò che necessita il bacino idrografico del fiume Sarno per ritornare ad essere quello che era un tempo sono solo ed esclusivamente i dragaggi del Sarno, dell'alveo comune Nocerino e del rio Sguazzatoio. Se non si accelerano le operazioni di dragaggio di questi canali e del fiume Sarno, l'agro Nocerino sarnese, in particolare le periferie di Angri, San Marzano e il centro di Scafati sono destinate a vivere sott'acqua. Noi questa mattina prendiamo atto che è bastato un semplice temporale a Monte, cioè a Solofra, per ritrovarci di nuovo sott'acqua, per ritrovare le campagne di queste periferie allagate e alcuni concittadini con l'acqua in casa, solo ed esclusivamente per la incapacità di chi governa alcuni processi di portare avanti e a compimento le opere di cui il Presidente De Luca si è fatto carico finanziandolo con centinaia di milioni di euro. Io faccio appello a lui affinché si renda conto dell'inutilità di alcuni suoi collaboratori, perché non è possibile che il Ponte Marconi sia stato abbattuto e non sono stati ricostruiti gli argini per contenere la piena dell'avvio comune Nocerino, tant'è vero che questa è esondata, è esondata ed è esondata in modo pericolosissimo e siamo solo all'inizio di questo inverno. È bastata una semplice pioggia a Solofra per farci allagare. Figuriamoci se pioveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni i millimetri che ci aspettiamo possano venire giù a causa delle piogge torrenziali causate dal cambiamento climatico. È un disastro annunciato quello che l'avvio comune Nocerino, il rio Sguazzatore e il Fumesarno possono causare se non si interviene con urgenza e in emergenza entro pochissimo tempo. Il mio appello è affinché gli organi competenti si diano una mossa e facciano ciò che devono fare. In particolare faccio appello di nuovo al Presidente Di Luca nel quale ripongo fiducia di oltre un decennio e sono certo che potrà dare una risposta seria e concreta a questi territori.